ma perché voi non capite cazzo non capite con chi avete a che fare deviazione deviazione siccome c'è lì uno gli ha detto così va perché lo sa apri chiudi apri chiudi apri chiudi lo sa che marcia è adesso mettiamo il contamattico vedi che sta andando di là andiamo a